E' una rapina E' una settimana di tempo Lolo Per aprire la fotogallery Toccare lo schermo Chi sei? Te la senti di fare la strattista? E' l'unico modo per mettere le mani su quel quadro Ti prego, facciamo una storia insieme Una storia? Mi pare un po' esagerato Io al massimo le posso dare una botta Io soy Pablo Escobar Pablo Escobar? Lei non lo sa? Io so suo fan Ho visto tutti i film Tutte le serie tv Narcos Ma la so divorata Sente qualcuno Che si accoppi Con la buzzicona Rose russe Dosino satanassa Ah già chi va Ammazza, bravo Ma tu hai mirato per prendere la mano Ma che adesso lo sparo così a cazzo da cane? Ah eh Ma che gli stava a spiegare Gli ultimi 35 anni di storia? Ci sei perso niente Tu scudetti caro Totti Totti chi? Totti Francesco Che cazzo è Che cazzo è Dio He